Si stanno cominciando a conoscere nel ritiro di Falcade il Venezia e il suo nuovo allenatore Eusebio Di Francesco. Più di 300 panchine in Serie A per lui, momenti inizialmente molto felici a Sassuolo e a Roma e successivamente una serie di incompiute, tanti complimenti per il gioco espresso, ma situazioni di classifica spesso deficitari e sfociate in esoneri o retrocessioni come lo scorso anno a Frosinone. Proprio l'esperienza in Ciocciaria ha insegnato molto al tecnico abruzzese, fortemente voluto dal direttore generale Antonelli, sia su uno schema che privilegia una linea a tre difensori, quella con cui è arrivato in Serie A il Venezia con il precedente tecnico Vanoli, e che non si basi su molti, troppi prestiti di giocatori. È fondamentale anche acquisire i giocatori di proprietà o perlomeno con la prospettiva di poterli prendere definitivamente. Questo penso che sia molto importante per cercare di far capire loro il senso di appartenenza che è fondamentale. Il telaio c'è, c'è anche la giusta mentalità, è normale che poi dovremmo andare a mettere dentro altri elementi e anche loro dovranno essere bravi a farli integrare al meglio insieme a me. Qual è l'aspetto più importante da spiegare ai giocatori riguardo al salto di categoria? Le qualità dei giocatori che si trovano davanti, perché capaci che siano sornioni per 70 minuti e in 20 minuti ti tengono lì attaccati sotto la traversa. Questa è la differenza della Serie A. Magari i giocatori che in quel momento gli dai un'opportunità e ti fanno gol. Questa si dice che è la Serie A, ma è una grande verità. È normale che, per quello dicevo prima, se prima eravamo attenti in un certo campionato, in questo bisogna essere ancora più attenti. E credo che l'attenzione, specialmente quando si difende, ma anche quando si cerca di andare a fare gol, diventa fondamentale. Penso che visto da avversario, adesso diventa il suo fortino. È un fortino vero e proprio? Ma io ci ho giocato in passato, ma tantissimi anni fa. Da allenatore non c'è mai stata la possibilità di giocare contro il Venezia. Voglio vedere che sensazione mi dà, perché mi hanno detto che lo stadio è cambiato tanto ed è tantissimo. Forse nel 2003 ci ho giocato l'ultima volta col Piacenza, per quello non ricordo più. Anche se quando ho cominciato anche a giocare in C, ho giocato sia a Mestre che a Venezia in tante occasioni. Per quello questa zona, quando ero un pochino più piccolo, l'ho frequentata spesso. Hai chiesto di fare come puoi Ampalo, vivere in centro storico o ci penseranno? No, credo di no. Troppo complicato. Il mio primo pensiero è venire qui a lavorare, perché l'ho più facilito questo. Poi la mattina vengo presto, mi dovrei alzare alle 5 di mattina per venire qui a lavorare. No, credo che rimarrò qui in zona.